La Battipagliese ha ufficializzato il tesseramento del calciatore Mario Apicella. Nato a Salerno il 7 agosto del 2000, Apicella è un portiere che ha vestito le casacche di Paganese, Gelbison e Cavese. Sono molto contento di essere arrivato in una società con una storia così importante, ha affermato Apicella. Mi metterò a completa disposizione per la squadra, dando sempre il 100%.